Ok, ci siamo. Puoi smetterla di chiedere se siamo arrivati. Finalmente! Sai volare anche più lentamente! Conserva questo atteggiamento, Dross, e lo farò. Buona fortuna, squadra! Ok, piloti, il pietitore è in funzione. Dipendetelo dalla porta Remnant e mantenete sicura l'area. Preso! E vai! È certo. Rilevo tracce del nemico in arrivo. Non sono in tanti, ma non montatevi la testa. Pronti! Prima ondata in arrivo! Abbiamo un pilota messo male. Va bene, va bene. Restate uniti. Possiamo vincere. Tornano in azione dei piloti alleati. Ora! Ora! Pronti! Abbiamo un pilota messo male. Gli scudi mietitori stanno per cedere. Proteggeteli. Tutto mietitore in ricarica. Non permettete alla porta Remnant di danneggiarlo. Buona notizia, squadra. Rinforzi per il pilota appena atterrati. Gli scudi si abbassano. Eliminate qualsiasi cosa lo stia danneggiando. Gli scudi mietitore di nuovo al 100%. Continua a terra materiale! Il pilota in arrivo! Il pilota in arrivo! La squadra è eliminata! Lo tiratterrò! Abbiamo un pilota messo male. Va bene, va bene. Restate uniti. Possiamo vincere. Scudi mietitore di nuovo al 100%. Lo scudo mietitore è sotto attacco. Proteggetelo! Abbiamo più piloti messi male. Restate uniti. Tornano in azione dei piloti alleati. Ora! Lavoro eccezionale. Non credi, Davis? Davis? È rimasto senza parole. Bene, è ora di divertirci. Tutti pronti? Prepararsi a Titanfall. Ottimo lavoro. Ecco dei crediti. Usali per costruire alcune difese. Cerca di essere un po' più duro. Ripper in arrivo! Tenete la distanza! Eliminateli! Bentornato, pilota. Ripper in arrivo! Altri in arrivo, attenzione alla nuova ondata. Titan nemico a terra. Ipernemici avvistati, squadra. Eliminate quelle bestie! Squadra, proteggete il mietitore mentre lo scudo si ricarica. Siamo cercando una barca non gli erogati. Contro il scuola, non tieni l'interno di scuola. La rinforza è una volta, non prendere l'interno di scuola. La rinforza è una volta, non prendere l'interno di scuola. Siamo cercando di scuola. L'interno di scuola è una volta, non prendere l'interno di scuola. Titan nemico a terra. Mi stanno staccato da Titan nemico a terra. Attenzione, rilevo franzati allo scatto. Siamo cercati! Ragazzi, lo scudo mietitore si sta ricaricando. Fateci un favore, proteggetelo. Gli scudi mietitori non possono subire altri danni. Proteggetelo! Scudi mietitori andati. Data riuscita! Lavoro eccellente. Ho ottenuto altri crediti per te. Un consiglio, spendili saggiamente. Titan mortaio nemici in arrivo. Lanciano razzi da lontano. Trovateli. Ganciano razzi da lontano. Anni critici. A deviHAMING. Un'altra ondata! Prendiamoli! Un'altra! Un'altra ondata! Un'altra ondata! Ragazzi, abbiamo appena aperto un pilota. Dovete stare più attenti. Gli scuri mi stiori stanno per cedere. Proteggiti. A te! Paruti mi storia al 75%. Sembra che la sua torretta sia a terra. Vai lì e riparala. Buone notizie squadra, rinforzi per il pilota appena atterrati. Il nostro ammettore è a terra. È finita. La flotta Revenant avvita il round. Abbiamo un'altra possibilità. Non vi preoccupate, andrà tutto bene. Bene, stiamo attivando di nuovo il Mietitore. Preparatevi. Questi taisan mortaio colpiscono il Mietitore da lontano. Usa la minimappa per scovarti. Altri in arrivo. Attenzione alla nuova ondata. Mi stanno attaccando una tanca andaleata. Allora, vieni al Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluti i mietitori al 75%. Abbiamo perso il mietitore. Ce ne eravamo quasi, bel tentativo.